Eccoci ritornati in diretta, dunque come promesso il primo ospite di giornata è arrivato nei nostri studi è padre Vitali Peri dei frati francescani della Tonman, lo stiamo conoscendo in queste serate di predicazione nella settimana appunto di preghiera per l'unità dei cristiani. Buongiorno, bentrovato, pace e bene. Buongiorno, pace e bene. Buongiorno padre Vitali. Allora lei appunto è stato in questi giorni predicatore insieme ad un altro sacerdote appunto durante questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. È la prima volta a San Giovanni Rotondo? Sì, prima volta. E che come è stato predicare nel santuario di Padre Pio in questa settimana così importante? È molto bello perché predicare dove c'è Padre Pio, dove c'è la sua tomba, unirsi insieme con lui nella preghiera, a predicare anche tramite, alla gente che veniva in chiesa ma anche tramite la tv, è molto bello, è molto emozionante. Ringrazio Dio che tramite la tv la parola Dio può arrivare anche nelle case alla gente che non può uscire proprio in questa settimana per l'unità dei cristiani, pregare tutti insieme perché questa settimana non solo in Italia ma tutto il mondo pregano per l'unità dei cristiani e tramite la tv si può arrivare in ogni casa chi non può uscire andare nelle parocchie a pregare per unirsi tutti in una preghiera che la Chiesa può essere unica Chiesa con un unico pastore. Allora Padre Vitali, veniamo al significato della parola Atonement. Ecco io nel presentarti appunto sei un frate francescano dell'Atonement, io personalmente non ne ho mai sentito parlare, presumo anche tanti i nostri amici a casa che ci stanno seguendo. Allora ti chiederei di spiegarci il significato di questa parola che poi è anche un carisma se vogliamo. Sì, allora 1908 diciamo il padre Paolo Watson che passa dalla Chiesa Anglicana Episcopale nella Chiesa Cattolica e poi è fondato anche lui frati francescani dell'Atonement insieme con la madre Lorano White, frati le suore dell'Atonement e lui propone questa pregare per unità dei cristiani che forse anche perché passando dalla Chiesa Anglicana alla Chiesa Cattolica voleva che tutte le altre confessioni si uniscono pregando insieme e un giorno forse quando arriverà saremo tutti come dice Gesù Cristo una cosa sola, come tu padre sei in me ed io in te. Allora da lui diciamo lui sarebbe fondatore per questa settimana per unità dei cristiani, proprio dal 18 al 25 che oggi si finisce con la festa del conversione di San Paolo, Apostolo San Paolo. Attonement sarebbe riconciliazione, riconciliazione prima di tutto direi riconciliazione con noi stessi, con noi stessi, con il prossimo e con Dio. Questa sarebbe riconciliazione, unità, unità con altri, unità con Dio nel nostro cuore. I frati francescani dell'Atonement sono ad Assisi, diceva anche a Roma. Sì, c'è la Casa Procura a Roma, Chiesa Sant'Onofrio, sulla passodata del genicolo, poi Assisi e a Roma c'è anche un centro prugnone, centro prugnone dove spesso fanno le conferenze per l'unità dei cristiani con diverse confessioni e anche biblioteca, grande biblioteca per l'ecumenismo, dove vengono i studenti che studiano a Roma ecumenismo, vengono a studiare, a approfondire diversi confessioni, diversi libri che stanno lì in questa biblioteca, che si trova a Piazza Navona. Bello, molto bello. Quindi l'ecumenismo è il vostro carisma, la vostra ragione di esistenza potremmo dire. E allora Padre Vitali vorrei chiederti la tua vocazione qual è stata, presumo sia una vocazione ecumenica a questo punto. Sì, vengo dall'Ucraina, sono nato quando c'era ancora Unione Sovietica e la Chiesa Cattolica in Ucraina era perseguitata, sono stato battezzato da un prete anche ortodosso e anche la mia famiglia erano ortodossi e poi quando da 1991, quando Ucraina è diventata indipendente, la Chiesa Cattolica era, io sono greco-cattolico, cattolico di rito bisantino, è stata, siamo uscita libera, si poteva celebrare liberamente, le chiese sono aperte, che la gente poteva frequentare tranquillo, non nascosto la Chiesa. Allora io poi dopo vado, sono entrato in seminario greco-cattolico, che sarebbe greco-cattolico, siamo cattolici perché facciamo parte della Chiesa Universale. Chiesa Universale, sempre con unione con il Papa, con Roma, però abbiamo rito bisantino come la Chiesa Ortodossa. Io dico sempre che la Chiesa greco-cattolica è come il ponte tra la Chiesa Ortodossa, che non ce l'ha come unione con la Chiesa Cattolica e con la Chiesa Cattolica, perché siamo cattolici, facciamo parte della Chiesa Universale, però abbiamo lo stesso rito delle celebrazioni, della Messe e altri uffici, come la Chiesa Ortodossa. Ho capito. Lo stesso rito. Senti, Padre Vitali, l'ultima domanda, prima di lasciare la linea alla pubblicità, viene da quelli che possono essere i frutti della settimana di preghiera dell'Unità dei Cristiani, che quest'anno credo sia incentrata in maniera molto particolare anche su quello della pace, sul tema della pace. Ti chiederei allora di lasciare un messaggio a conclusione di questa settimana di preghiera che noi abbiamo detto essere non una sola settimana all'anno, o meglio, l'auspicio è quello che non dovrebbe essere una sola settimana all'anno, ma un cammino perpetuo, continuo di ricerca dell'unità e anche ovviamente della pace. Il primo cammino verso unità bisogna sempre iniziare da noi stessi. Il primo passo è la pace nel cuore, umiltà e il perdono. Se non c'è la pace nel cuore non si può fare la pace con il prossimo. Il primo passo è anche il perdono, riconciliazione con altri, non guardare del passato importante, ma guardare sempre le cose che uniscono, non che dividono, che uniscono, che possiamo costruire insieme il futuro. Ma non solo questa settimana, ma andare, questa settimana si prega, ma bisogna sempre lavorare e andare avanti per trovare, perché in diverse confessioni ci sono belle cose, c'è tanta ricchezza, in quale si può scambiare, arricchirsi e costruire insieme il futuro. Sono più le cose che ci uniscono che non quelle che ci dividono. E più guardare, più guardare cose che uniscono ma che dividono. Umiltà, ci vuole anche spesso umiltà. E siamo certi che porterà a casa un bel ricordo di questa esperienza a San Giovanni Rotondo, come predicatore nel santuario di Padre Pio. È devoto al santo di Pietrelcina? Sì, molto devoto, anche lo so che è tanta gente, anche in Ucraina. In Ucraina sono molto devoti a Padre Pio. partecipano i gruppi, anche tramite frati francescani Capuccini. Ci sono anche diversi gruppi di preghiera di Padre Pio in Ucraina. Che bello, grazie. Grazie ancora a Padre Vitali per essere stato con noi questa mattina. Grazie davvero di cuore e un saluto davvero a tutta la sua comunità. Grazie mille. Andiamo in pubblicità, ci fermiamo qualche istante e poi i primi aggiornamenti di giornata.